Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ho deciso di realizzare questo video perché in questi giorni sono stata, anzi negli ultimi giorni, sono stata un po' assente sul canale e molte di voi mi hanno chiesto soprattutto su Instagram che cosa fosse successo perché si vedeva che stavo facendo i video un pochino, non dico forzatamente, però comunque si vedeva che non ero più attiva come al solito, sapete che io di solito sono sempre molto attiva, pubblico molti video. La verità è che non so perché in questi giorni mi è preso un periodo abbastanza importante, ho delle piccole crisi e quindi ho deciso di spegnere, avevo deciso di spegnere di più il computer e di cercare di fare altre attività, ho fatto molto yoga, sono stata molto all'aria aperta anche perché c'era fortunatamente una bella giornata e quindi avevo deciso di staccare un attimo dal computer, purtroppo sono in un periodo di forte stress emotivo, sto cercando di capire perché, perché sinceramente di solito ho un equilibrio mentale diciamo abbastanza stabile, però non lo so, non mi sentivo più motivata, quindi non mi va di fare le cose quando non ho voglia, boh sono un po' triste, non lo so, però mi sta passando, quindi ho deciso di tornare a realizzare contenuti, quindi questo è un motivo nulla di grave ovviamente, ho fatto questo video perché alcuni di voi si stavano spaventando ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, adesso torno appunto a fare la programmazione normale, volevo annunciarvi anche una cosa, in approfitto in questo video, praticamente ho deciso di iniziare a pubblicare video a tutte le ore della notte e di notte di fare anche una live relax, cos'è la live relax? È una live dove poter ascoltare musica e fare yoga, quindi sono delle basi sottofondo molto utili che possono appunto servire per chi ama lo yoga, quindi se amate lo yoga potete mettere questo video che è una live che poi diventa video, che è una durata musicale dove potervi rilassare, meditare in pace, ecco, mi piacerebbe molto appunto fare una live di questo tipo, anche perché a volte io facevo queste live che trovo in giro, faccio queste live proprio quando mi rilasso, quindi potrei fare una live per me stessa da pubblicare con la musica che va in sottofondo, fatemi sapere se può piacervi una cosa del genere. E quindi questo è tutto, io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lasciami un commentino qui sotto e ci vediamo adesso con dei prossimi video. Un bacione, ciao a tutti!